Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul nostro canale del proviamolo Catalyst Black, un gioco che deve ancora uscire, è in pre-register quindi molto presto potrete giocarci anche voi Allora, è la prima volta che ci gioco, ho fatto una partita ipotetica di prova, però mi hanno interrotto quindi non sono sicuro del tipo di gioco Allora, da quello che ho capito, è una sorta di PvP dall'alto, molto interessante, con varie abilità e penso che a una certa ci saranno anche altri personaggi Ok, le missioni non sono disponibili mia dell'ascensione al 3, probabilmente devo fare questi potenziamenti in qualche maniera Abbiamo sbloccato modalità interessanti, abbiamo giustamente da andare a provare com'è il gioco direttamente Vi ricordo che io sto giocando alla beta perché me l'hanno data a disposizione per mostrarvelo Allora, gioca, andiamo a fare la modalità massacro PvP, troviamo una partita di cattiveria Ma in caso mai, se ci gira male, facciamo una bella iper scioppata nella beta proprio per vedere che succede Ok, la schermata di caricamento già ci piace E vediamo già il nostro personaggino Ok, abbiamo capito già che abbiamo delle abilità Possiamo dare dei segnali ai nostri compagni Ok Spara in automatico verso la direzione Quindi molto interessante Quindi è una sorta di Kill League of Legends dall'altro Che bisogna eliminare gli avversari Più kill si fanno Più si va avanti Interessante pure il personaggino di questo tizio Ok Se non erro riesco a curare pure gli altri compagni Allora me do Prima che muoio male Interesting Ci sono anche dei mob da eliminare Quindi è una sorta anche di mezzo PvP E PvE Tutte e due Ok, siamo rispawnati Sono di respawn pronti Stanno vincendo gli avversari Quindi penso che dobbiamo massacrare i mob Oltre che loro Per fare il nostro effetto massacro Vai Tiriamo gli delle bombette Non lo pigliamo assolutamente Aia Me l'hanno fatto pure su di me Porca miseria Mi hanno devastato Eh, eh Ci stanno facendo il male Ok 12 a 11 Vediamo un po' Stanno recuperando i miei compagni La chargata non mi piace Sinceramente Un po' troppo direzionale Va bene L'abilità l'ho tirata Sopra il mostro Però adesso eliminiamo anche la gente Questo è mio, grazie Levete Non so perché sta attaccando dall'altra parte il mio personaggio Ah, c'erano altre persone Ok Ci è piaciuta Ah no, possiamo targetta la zona Ah, ma io pensavo di no, regà Ok, buonissimo Devo imparare però Sono morto Non me ne ero manca accorto Fantastico Ok, si vede che sono un hub alle prime armi Eh, però la nostra squadra sta vincendo C'è anche un'abilità Cosa faccio? Oh Mi sono trasformato in un mega mostro Vieni qua Ah, cavolo No, l'ho sprecata Ok Potevo trasformarmi in un mega mostro Per un tot di periodo Ah, mi hanno eliminato malissimo Ok, 21 a 23 Penso che mo' perdiamo male Ah, ma recupera tanto bene Ho sprecato la super Meganauta apparso Dobbiamo eliminare il Meganauta Interesting Vai Tiriamogli del botta il Meganauta Meganauta Cavoni Ok Adesso cerchiamo di recuperare la situazione Eliminando i nostri avversari Pesantissimi Oh, eccoli Vai Belli pronti e cattivi All'assalto 25 a 23, raga Che battaglione Oh, sono ancora vivo Vittoria Mamma mia L'abbiamo ribaltata con un attimo Fortissimi Eh, addirittura secondo Ho fatto 3 uccisioni 10 assist E una serie di uccisioni Perfetto Quindi sono arrivato secondo Grazie a quello Va bene Eh, hai ricevuto frammenti Ok, hai ricevuto dei punti Che non so a cosa servono Per, toccando gli oggetti Ci dice cosa sono Gioca partito e completa missioni Per ottenere frammenti Con cui acquistare Forzieri lunari Nel negozio Al loro interno Troverai punti esperienze Evipaggiamenti Ok, ottieni punti ascensione Per completare le missioni giornaliere E settimanali Va bene Quindi diciamo Sicuramente ci sta Il punto per salire di livello A livello 3 Si sblocca L'altra modalità Intanto prendiamo il verro Che non so cosa sia Quest'arma Fucile a pompa Ok, quindi si possono cambiare Anche le armi Interesting E adesso vado a vedere Cosa c'è di shoppabile Nel negozio Si sblocca lì allo 4 Ascensione Ma dai Così è lungo Eh, ci vorrà un pochino Allora, vai Dotazione Possiamo mettere Comunque questo fucile a pompa Anche a posto Del tepore del nord Ok Lo possiamo cambiare Se piace E possiamo anche potenziarli Da quello che ho capito Però si potenzia A livello 5 Va bene Ho equipaggiato il verro Proviamo Andiamo in gioco In un'altra modalità I tre pvp Non la possiamo fare Quindi per adesso Abbiamo solo massacro pvp Gli altri si devono sbloccare Probabilmente Vai Andiamo in gioco A farci un'altra bella partitozza Per capirlo meglio Comunque Effettivamente Potevo pure capirlo Che questi posti Non potevo accedere C'erano dei lucchetti Lucchetti significa Che sono chiusi Come posizioni Vai Massacro 25 punti alla vittoria Mi sa che non si è impostata L'arma Sì invece Eccola Aia Ok Il fucile a pompa Non mi piace tantissimo Ole Intanto mi curo E curo anche i miei compagni Ok È un'arma Da Ultra ravvicinato Oh Double kill Vieni Vieni Che cosa faccio Col fucile a pompa Mamma mia Ok Devo stare attento A questo però Lo eliminiamo Abbastanza velocemente Ok Vai Mamma mia Il devasto Col fucile a pompa Sto a fare Da non credere Già meganauta Boom Aia Ah Mi ha preso in pieno Cattivissimo Il meganauta Veramente tosto Ci piace Ok Tra un po' Mi si sblocca pure Il mio potenziamento Bello Allora Mi ha ganato No Che spreco Ok Posso curare i miei compagni Sì Mamma mia Fucile a pompa Devasta Mi piace Ma recuperiamo vita Mentre aspettiamo No Sì Perfetto Allora me devo ricordare Non attaccare random Perché recuperiamo anche Un po' di vita Allora Esageratissimo Perché Pompa Più cura Significa Tanta roba Ok Questo lo Eliminiamo Double kill Ti piace Questo andiamo a piallo In pieno In faccia Di eh Triple kill Intanto Cura i miei compagni Quadra kill Madonna Trasformazione Boom Eliminiamo Penta Regà Ho fatto una penta Mamma mia Esci da là Esci Esci da qui Boom Esagerazione Regà Esagerazione Questa me la porta a casa Tipo Sono il più forte Di tutti Poi entro In base Così Vabbè Entro nel punto di spawn Regà Cattivissimo Multi kill Esagerato Fa un kill Mi piace Fa un kill Guardalo 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 Oh non lo pio Perché non lo pio Ok no Scappa Che scappa Si scappa Arrivato Eh muoio No mi sono Trasformato Meganauta Meganauta Apparso E non solo Meganauta C'è un po' troppa gente Qua Che paura Ok 24 a 22 Com'è possibile però Ok No guarda Mi ha fregato Ah Dani doppi per working Ah 24 a 22 Regà Tosta 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 Poi c'ho un bel po' Dei potenziamenti E dei gemmine Però eh Mi piace Questa cosa Non ho mai utilizzato Questa abilità Mi sono dimenticato Di utilizzarla Abbiamo vinto 26 a 22 Ottimo Ci piace Ci piace Bello attivo E sono primo Con ben 14 Uccisioni Enorme 76 frammenti Per me Grazie 30 punti Ascensione E si sale A livello 3 E sblocchiamo Le missioni Ottieni Gioca due partite Grazie per i frammenti Tanti bei frammenti Ottieni Vai Quanta bella rubina Usa l'arma pesante 5 volte Eppure De più De 5 volte Ragazzo mio Otteni Forziere Apriamo il primo Forziere Di oggi Quint Hai ricevuto 10 quint 150 polvere Devo imparare bene Cosa significano Queste cose Allora Gioca 5 partite In qualsiasi modalità Interessante Assumi la forma Primordiale De volte Ok Tutte abbastanza facili Tutte abbastanza Normal Ok Ascensione Ok Nuova ricompensa Ricevuta Mitragliatrice Cioè Dotazione Mitragliatrice Si cambia Al posto Dell'arma pesante Si Vai Posso pure potenziarla Ah ho potenziato L'abilità però Non ho potenziato La mitragliatrice Allora volevo Equipaggiare La mitragliatrice Ok Equipaggia Quindi Fatto Scheggiato Dovrebbe essere La mitragliatrice Ok Mamma mia Enorme Andiamo a provare In gioco Al volo Dai Ultima partitozza E poi ci salutiamo Anzi qui c'è pure Una missione da prendere Grazie Se volete vedere questo gioco Ragazzi Dobbiamo arrivare a 100 like Vi ricordo sempre La regola del proviamolo Questa ancora non si può fare Bisogna arrivare a livello 4 Ultima partita per noi E poi ci salutiamo Ok Si entra in gioco Ci piace anche la schermata Caricamento Sempre la stessa Secondo me dovrebbero fare Un po' di varietà Ma ricordiamo che è la beta Potrebbero esserci diversi Cambiamenti All'uscita del gioco Allora Mitragliatrice Allora Mitraglietta Non mi ispira tantissimo Ok Non serve per forza Mirare a sto gioco Se hai capito Ah Ok Aspetta 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 Devo rivedere Sta cosa La mitragliatrice Più la tieni premuta E più attacca È un gatling Non è una mitragliatrice Regà È un gatling Quindi lo devo gestire Come se fosse un gatling Aiuto però Eh Mamma mia Che arma bella Che c'ha quello La voglio pure io Come se piglia Ok Recuperiamo un po' di vita Va bene Uh Aggressive Uh Enorme Che piace Danni doppi Per me Aiaia Aia Stanno devastando Raga Ok Ho recuperato le energie Per fare l'attacco gigante Ti ho un po' Ah Uh Tieni me contro Seguro pure Tiè Ok Penso che ci sia pure Un pulsante per la ricarica In verità Ah Ok Sto cominciando a capire bene La gestione di questa mitraglietta Vediamo un po' Oh Si è trasformato quello Ok Eh È grosso È grosso È grosso Trasformato in bestia Già No È meglio non bersagliare Contro questa Va Vediamo la botte vere Uh Devasto col mitragliettone No Ma devastato lei Ai 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 Ci stanno devastando davvero Stanno facendo del male Io direi di proseguire Vediamo che riusciamo a combinare Oh Penta uccisione No 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 Quella deve scende Senza freni È inarrestabile Ok Come The match point No Rega Questi stanno al match point Ma che stai di Ok Questo l'abbiamo eliminato malissimo Andiamo al recuperone Andiamo al recuperone vai Perché non mi spara Ok Quello l'ho eliminato Mitragliettata pesantissima Boom Ok Puro un compagno Ok Direttamente nella zona di spawn Loro non è proprio il massimo Vabbè però lo dovremmo riusci a eliminare Vinta 25 a 17 Ribaltone Dove sto Quanti punti mi hai dato Secondo Sette uccisioni E due assist Beh Beh Sono già migliorato Velocemente Vai Frammenti Grazie Molto gentili Punti E ricompense Che piacciono Ho sbloccato il negozio Mi sa che ho sbloccato il negozio Che bello Qua si possono Shoppare cosine Del valore Di 4500 Di questi Questi si comprano Sì ragazzi Allora Facciamo così Se arriviamo A 200 like Io mi shop Quello da 2699 Facciamo così 200 like Qua sotto Mi raccomando Questo è il video di oggi Questa era Catalyst Black Uscirà molto presto Per adesso In pre-registrere Quindi registratevi anche Su Play Store E anche in italiano Quindi perché non provarlo Ariomi le like Condividete i video Iscrivetevi al canale Se i nuovi Lascia il hashtag Catalyst Black Sotto nei commenti Per ricevere un coricino E ci vediamo Nel prossimo video